Traffico di droghe e riciclaggio, maxi operazione dei carabinieri di Salerno. Polla, arrivato il macchinario per processare i tamponi, a breve la riapertura del reparto Covid. Ingresso al cimitero, definiti i regolamenti a San Pietro, Sassano e Buonabitacolo, a Sala Consilina, tutto confermato ma scende il numero di accessi in contemporanea. Vallo di Diano, organi sovraccomunali, annunciato gruppo alternativo, Guerciolo, Viso, Rinaldi e Vertucci. Calcio dilettanti, via libera e allenamenti, lo comunica la FIGC. Buongiorno e bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura la maxi operazione dei carabinieri di Salerno, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con l'aggravante della transnazionalità del reato, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, intestazione fittizia di beni, riciclaggio ed autoriciclaggio. Per questi reati sono 27 i soggetti interessati dalle misure cautelari eseguite all'alba dai carabinieri di Salerno in diverse città della penisola. I dettagli della vasta operazione sono stati illustrati dal procuratore della Repubblica di Salerno. La droga Salerno arrivava acquistata in Albania e Olanda, ma anche oltreoceano, a Panama e in Brasile, in modo autonomo, senza legami con la criminalità organizzata, in particolare di stampo partenopeo, e quanto delineato nell'operazione El Fakir dal nome del referente internazionale che si occupava del traffico di droga con la quale la procura, la direzione distrettuale antimafia di Salerno e i carabinieri della compagnia di Salerno hanno sgominato un'organizzazione composta da 25 indagati, 23 finiscono in carcere, due agli arresti domiciliari che, a vario titolo, sono coinvolti in un traffico internazionale di droga, in modo particolare cocaina, ma anche riciclaggio di proventi illeciti, su una stima di fatturato di circa 20 milioni di euro, in attività come pizzerie a Salerno, a Puntelle ed una lavanderia sono state sequestrate nell'operazione, ma anche creazione di società fittizie al fine di ricevere finanziamenti pubblici con Invitalia. Figura centrale nell'organizzazione è Fiorenzo Parotti, a capo di quella che il colonnello dei carabinieri di Salerno ha definito una vera e propria holding per la struttura organizzativa costituita anche da sottogruppi in ambito provinciale ad Acerno ed Olevano sul Tusciano, in grado appunto di avere rapporti relazionali con i broker internazionali in materia di stupefacenti, senza l'appoggio di clan camorristici. Nell'operazione, ancora una volta, è emerso il ruolo del porto di Salerno, dove per ben due volte si cerca di far arrivare container con droga e si ferma il traffico solo perché viene arrestato chi deve occuparsi del trasporto. L'operazione ha portato al sequestro di 165 mila euro, al sequestro di orologi per un valore di 75 mila euro, 20 chili di droga ed è stata complicata dall'uso da parte dei sodali di telefoni Blackberry di più difficile intercettazione. Lo spaccio non riguardava solo la città di Salerno, ma aveva canali anche nella provincia di Avellino. I carabinieri che hanno operato circa 300 si sono mossi anche nelle province di Brescia, Taranto, Parma e Firenze. Nel corso della conferenza stampa, il procuratore Borrelli e il comandante dei carabinieri Trombetti hanno evidenziato la capacità del gruppo salernitano di gestire in autonomia il traffico di droga, cocaina, ma anche amnesia e marijuana. Il nome dell'operazione El Fakir trae origine proprio dal canale di rifornimento. Nel seguire i movimenti di un broker internazionale di origine napoletana in contatto con diversi cartelli della droga, era emerso il progetto di inviare una spedizione di cocaina all'interno di un container proveniente da Panama. Inizialmente era stato proposto il porto di Salerno, ma poi si vira sulla Spagna, non avendo società intermediare incaricate nel trasporto commerciale diretto con l'Italia. Novità importanti presso il Luigi Curto di Polla in questa fase di emergenza epidemiologica. Arrivato il macchinario utile per processare i tamponi presso l'ospedale pollese. Novità positive anche per la riapertura del reparto Covid allestito ma inutilizzato. Anche l'ospedale Luigi Curto di Polla entra nella fase di emergenza e si prepara ad accogliere e a gestire eventuali pazienti Covid che potrebbero necessitare di cure più specifiche. Ospedale infermente in queste ore mentre ci si sta preparando per l'installazione del macchinario per processare i tamponi che è stato consegnato nelle scorse ore e che potrà essere utilissimo strumento per tutto il territorio al fine di velocizzare i tempi per ottenere gli esiti dei tamponi, cosa peraltro al centro del dibattito di questi giorni visti i lunghissimi tempi di attesa per ricevere i risultati. Ora anche presso l'ospedale di Polla potranno essere processati i tamponi prelevati sui pazienti personale. Altra importante novità potrebbe a breve riguardare anche il reparto Covid del Luigi Curto che secondo quanto è dato sapere non è mai stato svuotato di apparecchiature e posti letto necessari per il trattamento dei pazienti Covid ma ha chiuso finora in quanto per la sua attivazione è necessaria l'autorizzazione da parte della Direzione Generale dell'Asla di Salerno. Autorizzazione che potrebbe arrivare a breve dato che pare sia arrivato l'occhè dall'unità di crisi regionale per l'utilizzo, in caso di necessità, di posti letto dedicati alla cura e al trattamento dei pazienti Covid. Dovranno però passare ancora alcuni giorni prima che vi sia la definitiva riapertura del reparto, una riapertura che potrebbe avvenire tra la metà e la fine della prossima settimana. Dieci i posti letto nel reparto Covid allestito presso l'ospedale Luigi Curto di Polla che saranno attivati nei prossimi giorni, in maniera tale da garantire adeguate cure ai ricoverati presso il Presidio ospedaliero pollese senza dover ricorrere a trasferimenti in altri ospedali e nel contempo allargando le strutture abilitate alla gestione dei casi Covid. Pur non essendo Covid Center, quindi, il Curto sarà comunque in grado di curare i pazienti che necessitano di assistenza sanitaria costante a seguito della positività da Covid-19. Un'altra lettera arriva al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, questa volta è firmata da molti sindaci della provincia di Salerno. Vediamo i dettagli. Un'altra lettera dopo quella del Presidente Vincenzo De Luca arriva all'indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte a sottoscriverla a tanti sindaci della provincia di Salerno tra cui Giancarlo Guercio di Buonabitacolo, Maria Antonietta Scelza di Salvitelle e Luigi Vertucci di Atena Lucana. In trincea e senza fondi, nella prima fase della pandemia, i primi cittadini hanno scelto la strada istituzionale del rispetto, dicono, adeguandosi alle scelte calate dall'alto. Nella missiva, ora, lamentano l'assenza di processi partecipativi. In questi mesi, si legge nella lettera, i sindaci hanno dovuto apprendere dalle sue conferenze stampa le decisioni fondamentali per la nazione, quelle che poi aspettava proprio i primi cittadini applicare e far rispettare i suoi territori. L'ultimo di PCM contiene le direttive sulla chiusura anticipata di bar e ristoranti, lo stop alle attività sportive, cinema e teatri, norme dirompenti che per milioni di lavoratori e imprenditori significano fallimento, povertà e disagio sociale, norme che andavano concertate con i territori e che soprattutto andavano anticipate da provvedimenti di sostegno reale all'economia del Paese. In questi mesi, invece, si è preferito investire sui monopattini, sul reddito di cittadinanza o sui famigerati monobanchi, si è perso tempo lasciando ai cittadini il compito di autoregolamentarsi senza indicazioni e sostegno alcuno. Chiedono quindi di rivedere le linee inserite nell'ultimo di PCM per un giusto equilibrio tra misure di contenimento e sostegno economico a chi è stato chiesto un nuovo stop. Non solo. In questo scenario, privo di pianificazione e guida, affermano, avviene poi che alcune regioni, che godono di uno statuto speciale, decidano di derogare al DPCM, consentendo alle attività di ristorazione di chiudere più tardi rispetto agli altri imprenditori italiani, confermando che nel nostro Paese i diritti non valgono per tutti. Si riferiscono a quanto deciso dalle province di Trento e Bolzano e sollecitano il Presidente del Consiglio a impugnare tali atti per consentire che la legge italiana venga rispettata in modo uguale in tutto il territorio nazionale o, in alternativa, di intervenire per sanare la disparità di diritti, consentendo al resto del Paese di adeguarsi alle norme emanate nelle province autonome. Nel Vallo di Diano cimiteri aperti per la commemorazione dei defunti con le raccomandazioni di Regione Danci. Vediamo. Cimiteri aperti nel Vallo di Diano in questo fine settimana dedicato alla commemorazione dei defunti, con la regolamentazione in ottemperanza alle misure anti-Covid. L'unità di crisi della Regione si è infatti riunita di concerto con l'Anci Campania per assumere le determinazioni necessarie in vista della ricorrenza del 2 novembre. L'indicazione generale fornita è stata quella di raccomandare fortemente la chiusura dei cimiteri al fine di evitare assembramenti. Sono però state fornite le disposizioni per l'accesso al cimitero a condizione che ciascun sindaco abbia preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l'andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio. Accesso al cimitero dunque consentito con l'individuazione di specifici protocolli o linee guida comunali idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e di misure organizzative tali da evitare assembramenti tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le disposizioni previste chiedono inoltre il rispetto della distanza interpersonale, ingressi dilazionati, di stabilire un numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, una differenziazione tra ingresso e uscita dal cimitero, il controllo dell'utilizzo obbligatorio di mascherina e gel per l'igiene delle mani e la misurazione della temperatura all'ingresso vietando l'entrata ai soggetti con febbre sopra i 37 gradi e mezzo. Previsto infine il controllo anche delle aree esterne al cimitero dove avviene la vendita dei fiori. Dopo le disposizioni varate dall'unità di crisi della regione Campania in vista delle celebrazioni di ogni santi e defunti, arrivano le prime disposizioni nei comuni valdianesi. Oltre a Tegiano e Sant'Arsenio, tra i primi a definire gli accessi, definiti i regolamenti anche a San Pietro Altanagro, Sassano e Buonabitacolo, a Sala Consilina, lieve modifica alle precedenti disposizioni. Dall'unità di crisi della regione Campania è stata decisa la misura soft in vista delle ricorrenze di ogni santi e commemorazione dei defunti. Raccomandata la chiusura, ma laddove le condizioni di contagio e di strutture lo consentano, ok alle visite ai cimiteri comunali. Diversi comuni si erano già preparati a tale evenienza, diramando da subito un regolamento per l'ingresso al luogo sacro. A Sala Consilina, dopo le disposizioni regionali, si riduce il numero massimo di presenze all'interno del cimitero da 140 a 100, con il possibile ricorso ad ingressi contingentati in caso di alta affluenza. Ecco perché si raccomanda di avviare sin da subito le visite, evitando di affollare il luogo sacro nei giorni dell'1 e 2 novembre. Orari flessibili a partire da domani, sabato 31 ottobre, con ingresso consentito dalle 7 del mattino fino alle 19 della sera, orario continuato. Ingresso e uscita separati, utilizzando i due cancelli posti nella parte vecchia del cimitero, misurazione e temperatura corporea obbligatoria all'ingresso, dove sarà presente anche il materiale necessario per l'igienizzazione delle mani. A vigilare sul rispetto del regolamento ci saranno i custodi del cimitero con l'aiuto dei volontari dell'ANTA e gli addetti della cooperativa. Regolamentato anche l'accesso al cimitero comunale di San Pietro Altanagro, dove sono già state apposte segnaletiche per regolamentare ingresso ed uscita dal luogo sacro. Nei giorni dell'1 e 2 novembre l'accesso al cimitero sarà consentito dalle ore 9 alle ore 16 e 30, con entrata dall'ingresso laterale, mentre per l'uscita sarà utilizzato il cancello principale. A San Pietro Altanagro si potrà entrare al cimitero per gruppi di persone, in maniera tale da ridurre la possibilità di assembramenti e tenendo conto del deflusso. Per l'accesso ai colombari comunali è consentito ad un massimo di 5 persone per volta, mentre nelle cappelle si potrà accedere a 3 persone massimo alla volta. Ad aiutare l'amministrazione comunale di San Pietro Altanagro nei controlli ci saranno i volontari della protezione civile locale con l'ausilio degli operatori dell'associazione FATA. Regolamento pronto anche a Sassano, con entrata in vigore sin da oggi. Il cimitero comunale da oggi fino al 2 novembre sarà aperto dalle ore 7.30 alle ore 17.30. Ingresso consentito ad un massimo di 40 persone per i giorni del 30 e 31 ottobre, mentre nei giorni dell'1 e 2 novembre è consentito l'ingresso ad un massimo di 50 persone alla volta. L'area antistante al cimitero sarà adibita allo stanziamento delle persone in sicurezza in attesa del deflusso dei visitatori e prima dell'accesso al cimitero con la misurazione della temperatura corporea. Norme fissate anche a buon abitacolo, dove il sindaco ha fissato come orario di accesso al luogo sacro nei giorni del 31 ottobre 1 e 2 novembre dalle ore 10 alle ore 17. Ingresso ed uscita separati. Si accede attraverso il cancello principale, mentre per l'uscita dovrà essere utilizzato il cancello posto nella parte laterale del vecchio cimitero. A Caggiano il sindaco ha firmato una nuova ordinanza sindacale con le disposizioni previste per i bar per l'accesso al cimitero e negli uffici comunali. Il sindaco di Caggiano, modesto la mattina ieri, ha firmato una nuova ordinanza sindacale, la numero 46, con ulteriori misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria. Da oggi e fino a nuova disposizione nei bar e sale aperte al pubblico, oltre al puntuale rispetto della vigente normativa, è vietato giocare a carte e trasmettere eventi di qualsiasi genere, sportivi o musicali, al fine di evitare assembramenti. Disposizioni naturalmente anche per le celebrazioni dei defunti. Da domani e fino al 2 novembre la visita ai defunti sarà consentita dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. Sarà possibile accedere al cimitero solo se dotati di mascherina, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato Tecnico Scientifico della Regione Campania. L'accesso al cimitero sarà consentito solo dall'entrata principale con uscita dal cancello laterale. Non sarà consentito l'accesso alla cappella comunale in quanto chiusa per evitare assembramenti. Previsto un ingresso contingentato per una presenza simultanea massima di 70 persone. Sarà possibile trattenersi all'interno del cimitero solo per il tempo strettamente necessario e nel pieno rispetto di ogni misura precauzionale. L'ingresso nelle cappelle private sarà consentito solo ad una persona per volta se non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Dal giorno 2 novembre, infine, e fino a nuova disposizione, l'accesso al pubblico agli uffici comunali sarà contingentato e sarà possibile esclusivamente a previo appuntamento telefonico e solo nei casi di necessità. Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco. Ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Quattro sindaci del Vallo di Diano, Guercio, Loviso, Rinaldi e Vertucci, ieri durante l'assemblea del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro ed Alburni hanno annunciato la costituzione di un gruppo politico alternativo in seno agli organi sovracomunali valdianesi. Vediamo. Ieri a Sala Consilina l'assemblea del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni. Durante la riunione quattro sindaci hanno presentato un documento politico annunciando la costituzione di un gruppo consigliare alternativo. Si tratta di Giancarlo Guercio di Buonabitacolo, Massimo Loviso di Polla, Giuseppe Rinaldi di Montesano sulla Marcellana e Luigi Vertucci di Atena Lucana. L'iniziativa è, scrivono, un invito all'immaginazione politica e si basa sulla convinzione che l'assenza di alternativa dipenda dall'ignavia politica, dall'assenza di coraggio e da un pizzico di ipocrisia. Manca, dicono, una riflessione ampia amministrativa che coinvolga tutti. Manca una discussione articolata sulle priorità da porre congiuntamente in campo. Manca un'unità istituzionale che rispetti la dignità di ogni comunità quale componente di un assetto più vasto. Il gruppo di discussione politico è pensato per il Valodidiano, assicurano e non contro qualcuno al governo del Valodidiano. Un gruppo che possa andare oltre la sterile polemica di turno, il facile comunicato, le lotte campanilistiche che sono zavorre per il nostro territorio. Le note vicende politiche amministrative relative spiegano al Consorzio sociale del territorio la mancanza ormai costante di numeri e omogeneità in seno al Consiglio Generale della Comunità Montana. La pianificazione sanitaria, la gestione delle emergenze a livello comprensoriale, la partecipazione attiva di tutti alle battaglie a tutela del nostro Valodidiano e altro portano ad affermare che è necessario che si avvii quanto prima e in maniera urgente un discorso rinnovato in primis a livello istituzionale e poi in termini politici e amministrativi negli organi di governo comprensoriali che ci riguardano. In ogni tavolo comprensoriale assicurano la discussione si snoderà su precise stanze tematiche, argomentative e progettuali fondamentali per il rinnovamento. Verranno valutati nel merito e con il dovuto rigore atti e provvedimenti proposti, ciò per il bene comune dei nostri cittadini. Non ci saranno sconti né adesioni fondamentali finora per la tenuta degli organi comprensoriali a garanzia delle attuali governance che troppe volte ormai si sono dimostrate sorde ai continui appelli di discontinuità. Non hanno colto la responsabilità dimostrata e non si sono adoperate per promuovere il rispetto istituzionale che ogni comune per natura e a prescindere dalle appartenenze reca in sé. Non siamo disponibili, concludono a soluzioni punte temporanee di breve durata e in attesa di. Occorre decidere subito e operare in fretta. Il Covid sta stremando il settore della ristorazione con l'asso mai così vicino. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Le vendite di cibi e bevande nel settore della ristorazione sono praticamente dimezzate nel corso dell'anno con un impatto drammatico a balanga sull'intera filiera, dai tavoli dei locali sino alle aziende agricole e alimentari nazionali. È quanto emerge da un'elaborazione della Coldiretti sulla base dei dati Smea in occasione della mobilitazione in piazza dei ristoratori con la Fipe sulle pesanti conseguenze dell'emergenza Covid. Il crack della ristorazione con il crollo delle attività di bar, gelaterie, pasticcerie e quant'altro ha un effetto negativo sull'intero agroalimentare nazionale con una perdita di fatturato di oltre 9,6 miliardi per le mancate vendite di cibi e bevande nel 2020. Un drastico crollo delle attività che, come sottolineato da Coldiretti, pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino all'olio, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, ma anche sui salumi e sui formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. Nell'attività di ristorazione sono coinvolte circa 330.000 tra bar, menze e ristoranti lungo la penisola, ma anche 70.000 industrie alimentari e 740.000 aziende agricole lungo la filiera impegnate a garantire le forniture per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro. Le limitazioni e le attività d'impresa, conclude il Comitato, devono dunque prevedere un adeguato sostegno economico lungo tutta la filiera e misure come il taglio del costo del lavoro, con la decontribuzione protratta anche per le prossime scadenze, superando il limite degli aiuti di Stato. Il calcio dilettantistico non si ferma, consentiti gli allenamenti di squadra. Tutte le news nel prossimo servizio. Finalmente un po' di chiarezza per il calcio di provincia. Allenamenti consentiti all'aperto, sia in maniera individuale che per gli sport di squadra e di contatto. Questo è quanto emerge dall'ultimo chiarimento del Governo, che riguarda in particolare l'ambito regionale dilettantistico. La FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, comunica che in relazione alle competizioni di livello provinciale e regionale e all'attività di base, attualmente sospese sino al 24 novembre 2020, è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all'aperto e in forma individuale. Il tutto nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore o allenatore. Questo tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020 e considerate le risposte a quei siti pubblicate dal Dipartimento per lo Sport sul proprio sito. Ora non resta che auspicare un rallentamento della pandemia, così da scongiurare restrizioni ulteriori. E con questo servizio termina questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.